buonasera bentornati sul mio canale e niente questo sarà un video veramente breve volevo solo semplicemente augurarvi buone vacanze e avvisarvi che ci rivedremo a settembre perché comunque sia diciamo che questo è un periodo per il social e per youtube stesso un po spento giustamente perché partirete andrete al mare giustamente nessuno voglia di stare davanti a una tv o a una televisione mentre si diverte o si riposa quindi mi è venuto il filatore a fuori di seguire sti due gatti che davvero soprattutto il piccolo è una cosa incredibile un indemoniato adesso qua sotto che sta grattandosi immobile che vieni già vediamo il fiatone vi dicevo ci rivediamo vieni qua che fai tutti i dispetti ci rivediamo saluta saluta i nostri amici ci rivediamo a settembre spero di potervi parlare del progetto ma spero soprattutto che sia partito il progetto nel caso non partisse per qualche motivo non lo farò più mi racconta lo stesso cosa volevo fare cosa pensato di poter creare ma magari un po la burocrazia un po perché magari non lo so magari scopo di non essere all'altezza e quindi mi faccio prendere paranoia perché un po di paranoia mi stanno venendo perché più mi informo più vedo cosa si dovrebbe fare e più vado in panico però non vorrei mollare difficilmente quando l'idea la mollo non per il panico quindi vabbè comunque inutile che stiamo e quindi niente video proprio breve ve l'ho detto brevissima quindi mentre questo disgraziato sta studiandosene una delle sue io vi saluto vi auguro appunto buone vacanze divertitevi e vi lascio con un quiz così un quiz estivo un quiz estivo domani si ho capito ora ti metto domani mio compleanno è il primo luglio ma non vi dico l'età corretta che faccio vi dirò 12 da questo numero forse potete capire quanti anni faccio realmente scrivetemelo nei commenti a presto ciao